Semi di lino. Proprietà, benefici e controindicazioni. Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di qualcosa di molto speciale, i semi di lino. Questi piccoli semi marroni sono un vero tesoro di salute, ricchi di nutrienti e benefici per il nostro organismo. I semi di lino sono una delle fonti più ricche di acidi grassi omega 3, essenziali per la salute del nostro cuore. Aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e a mantenere in salute il sistema cardiovascolare. Inoltre, contengono lignani, una famiglia di composti vegetali con potenti proprietà antiossidanti. Questi composti aiutano a proteggere le nostre cellule dai danni dei radicali liberi, prevenendo l'invecchiamento precoce. Ma non finisce qui. I semi di lino sono anche un'ottima fonte di fibra alimentare, che aiuta a mantenere regolare il sistema digestivo. Un consumo regolare di semi di lino può aiutare a prevenire la stitichezza e migliorare la salute dell'intestino. Per quanto riguarda l'uso culinario, i semi di lino sono molto versatili. Possono essere aggiunti a insalate, cereali per la colazione, yogurt o possono essere usati per arricchire pane e dolci. Inoltre, possono essere consumati sotto forma di olio di semi di lino, ricco di benefici. Nonostante i molti benefici, i semi di lino non sono adatti a tutti. In alcuni casi, possono causare effetti collaterali come gonfiore addominale, crampi o diarrea, specialmente se consumati in grandi quantità. Inoltre, contengono composti chiamati fitoestrogeni, che possono interferire con l'equilibrio ormonale. Pertanto, non sono consigliati per le donne in gravidanza o in allattamento, o per le persone con certi tipi di cancro sensibili agli ormoni. Un altro punto da considerare è che i semi di lino interi possono passare indigeriti attraverso l'intestino. Per assorbire tutti i loro nutrienti, è meglio macinarli o acquistarli già macinati. Ricorda sempre di iniziare con piccole dosi se non hai mai consumato semi di lino prima, e di aumentare gradualmente la quantità. Inoltre, è importante bere molta acqua quando li consumi, per aiutare la fibra a fare il suo lavoro. Infine, come con qualsiasi altro alimento, è importante consumare i semi di lino con moderazione. Nonostante i loro molti benefici non dovrebbero mai sostituire una dieta equilibrata e varia. In conclusione, i semi di lino sono un alimento eccellente per la nostra salute, ma come con qualsiasi cosa, è importante usarli con attenzione. Ricorda sempre di consultare un professionista della salute prima di apportare grandi cambiamenti alla tua dieta. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio su Teasily, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, shopper bag funzionali e tanto altro per il benessere. Grazie per averci seguito in questa breve guida sui semi di lino. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili e vi incoraggino a scoprire di più su questo fantastico alimento. Alla prossima!